Bella ragazzi siamo i Granas e siamo tornati con un nuovo video E oggi andiamo a fare il video delle facce Mi abbiamo chiesto sul video passato quello lì del Dopo Roma Tube Per chi non l'ha visto andasse qua a vederlo Mi abbiamo chiesto di fareci delle facce, delle smorfie E devo dire che non ci aspettavamo che così tanta gente partecipasse Addirittura ha partecipato gente del calibro di Rosario Muniz Don Cappuccino, Marotta Così, buffo Raga, abbiamo deciso di non metterli perché Sono già troppo famosi Esatto, quindi mettiamo soltanto quelli veri Dai, a parte scherzi Quindi adesso andiamo a fare le facce E speriamo vi piaccia insomma Allora, la prima faccia ce la fa Lorenzo Bastari Direttamente da Parigi Da Parigi E adesso apparirà tipo, spostiamoci un po' Ce l'avete anche qua dietro, però comunque apparirà in grande qua al centro Tra di noi Yes E poi ci sarà un fermo immagine tipo che bloccherà tutti quanti sulla faccia Allora, Lorenzo Bastari è un po' bastardo Sì È difficile veramente Allora, aspettiamo, vai È tipo così Ok Questa è la faccia di Lorenzo Bastari È che noi non ci vediamo No, mettiamo dopo come è venuta Quindi, ok Allora, la seconda faccia è di Rebecca Mililli Yes Ed è tipo così Vai Uno, due, tre Aspetta Come fai Lo strabismo come se c'era A me mi stanno fa male gli occhi Questa è venuta bella Mamma mia Ma è vera quella cosa che si diceva No, non è vera Quello non lo farai Lo fai, Alzi? No, non lo farai Lo fai No Hai paura, eh? No, perché non è vera Ma già mi fanno male gli occhi dei miei Ok Oh, io no Non ci vedo più Posso? Ma, no, no Avrei gli occhi tutto così, sta Ciao, ma te che dici? Allora, la terza faccia è di Alberto Briolotta E Avete qua a mezzo, si vede lui allo specchio Qua asciugamano, aspetta Sì, è asciugamano dopo il caffallo Cioè, come Ma com'è sta faccia? Infatti, me lo sto scordando Ah, ecco Ah, è così Vai Eccola qua, quindi Questa era un po' difficile Ci ho tutti i capelli scompisciati Allora, Dario Orlando ce ne fa una di coefficiente 10 Cioè, coefficiente 10 Questa è veramente impossibile Secondo me se questa non te vi prima tre liti di vodka Non ce la fai affatto Questa la faccio a prisbratto, no? Quando te sassi così, proprio Eh, com'era? Aspetta Attimo Prima dell'altra È veramente difficile È veramente difficile Non si capisce in cazzo Adesso ce ne abbiamo una un po' Sexy baby Sexy mami No, perché lui è Daniele Sirius Black Volgano Sì E questa è la faccia E questa è la faccia Faccio da fanculo mamma a 12 anni No ma il dito, non ho capito se il dito lo bacia o lo sta succhiando Se non ti ricchiere di età, poi ti sono a metà Cos'è? Quello che suonava che i denti Cioè, stava, girava uno, tipo, 5 anni fa su YouTube che suonava che i denti Bene Se non ti ricchiere di età, poi ti sono a metà Allora, le androfini ce ne fa una un po' godereccia Sì, lo è salendo Così, vai Cioè, sta fuori il pezzo sotto Ancora Stiamo lovinando la nostra reputazione Sì, con questo video, sì Comunque ragazzi, se vi piace questo video e volete altri episodi sempre con voi Arriviamo, tipo, a 3.000 like E faremo, tipo, un video serie Facciamo una serie sulle vostre facce Eh, come la vedete? E vi ricordiamo che oggi, alle 16, stiamo su Megle Con la tag Grananas Perché questo video esce oggi, alle 13 Di Omegle, perché se no c'è chi dice che non abbiamo una buona pronuncia Omegle Today we are going to go Cosciamente Today we are going to do Omegle, man Shit, nigga, nigga Capito, proprio, da ghetto, no? Comunque, stiamo su Omegle, quindi, guardate il video e cominciate a stare su Omegle Do you want a balloon? No Omegle, eh, raccomando Grans, perché... Infatti, sì, lo speciale 50k Cominciate già a connettere su Omegle con la tag Grananas Perché, siamo qua Speciale 50k Allora, c'è uno che... Che c'è un cognome che... Cioè, proprio... Giovanni Cioè, proprio la faccia che ha fatto e la reazione a... Eh, il suo cognome Allora, Giovanni Si non lo capiranno mai Paura Giovanni, paura Ci... Ci fa questa faccia Ok, già me l'ho dimenticato Aspetta Ok Ok, ragazzi Allora, anche questo video è arrivato al termine Mi spiace per tutti quelli che non siamo riusciti a scegliere Però, se arriviamo a termine like faremo un altro episodio e prenderemo altre facce Non sappiamo se da questo posto ne faremo un altro Comunque... Comunque... Scialla Perché se ne avevo uno squilla, ma è scialla E... Mi raccomando Fuori che aspetta, ma è scialla Tra poco su Omegle Tra poco su Omegle E... Ciao Spera che vi sia piaciuto Bella Ciao Ciao